Per questa serata innanzitutto non poteva mancare la pasticcere bianca e finalmente abbiamo qua anche la Donatella. Ciao Donatella, sei riuscita a liberarmi? Sono riuscita a liberarmi. Non potevi mancare questa volta? No, poi è una cosa bellissima, è un ambiente splendido, bello, veramente bello, non sapevo che esistesse, bello. Fantastico, allora una l'abbiamo subito centrata, gliel'abbiamo fatta conoscere, lo sta apprezzando. Bruno, lui per la serata ovviamente ci ha fatto il dolce, una torta fantastica. Bruno, finalmente conosci i tuoi colleghi della Scuola di Tutti a Tavola. Li ho conosciuti, tutte persone piacevoli, in gamba. Lui che li ha sempre visti solo in televisione. Bene, sono contento di aver fatto la loro conoscenza. Sembrerebbe che questa sera riusciamo anche a fare un po' di beneficenza. Eh sì, quello è importante, poi c'è stata una bella partecipazione e quindi ci sarà una bella anche alla fine il scontro. Beh, Donatella, allora ci vedi sempre il laboratorio da te a fare le ricette e qui è tutta un'altra cosa. Anche per me? Mi sto riposando anch'io. Allora buona continuazione. Grazie altrettanto a te, però purtroppo per te lavoro. Io ancora lavoro ma dopo anche io, perché io in realtà lavoro. Prima mi rilasso e mi riposo da loro e poi? Hai già assaggiato tutto. Sì, appena.